Trattativa Lampo conclusa con la fumata bianca, Franco Migliori è un nuovo giocatore della Teate Basket, arriva da Montecatini dove è stato il miglior realizzatore della squadra lo scorso anno a Matera in Abruzzo dieci anni fa in A1 con la maglia del Teramo Basket. Oggi pomeriggio allenamento e subito la presentazione. Io ho visto un po' Pescara, non ho ancora visto bene le squadre, Sansevero conosco tutti i giocatori, so che per questa categoria veramente c'è una squadra fortissima, infatti non so se ha perso una partita o nessuna ancora, se non è un caso. Speriamo, ti ripeto, io sono un giocatore umile che mi piace lavorare e fare le cose a voce bassa, lavorando e provando ogni giorno a rientrare meglio e bene in questa squadra. So che non è facile un giorno all'altro entrare già quando siamo a metà campionato in una squadra, ma io mi rendo sempre a disposizione di tutti, spero di nuovo te dico dare il mio contributo positivo, un po' la mia esperienza, visto la mia età, che si parlava che non ho più vent'anni, io spero di aiutare, dare un po' un salto di qualità alle squadre, che penso che già è una squadra fortissima, spero che con me riusciamo a dare qualcosa in più. Lo avevamo già pronosticato, insomma, che qualcosa poteva accadere, ho sempre detto che eravamo attenti, siamo stati attentissimi sul mercato, perché per noi questa è una ciliegina sulla torta, Franco Migliori è un atleta di cui chiaramente si conosce tanto, ha calcato tanti campi importanti in A1 e in A2 e speriamo che ci possa dare quel quid in più per farci risalire subito la classifica, anche se oggi, insomma, è una classifica abbastanza soddisfacente. Ultima, Presidente, perché Marchesani non ci stupisce più, quindi la domanda la devo fare, avete ancora un tesseramento a disposizione, nel mercato chiuso oppure mai dire mai? Sì, magari forse mi tessererò io.